Il Tar boccia i due ricorsi di Livorno contro l'autorità portuale Spezzina. 16 reperti archeologici nella villa a Porto Venere scatta una denuncia maxi operazione di procura e guardia di finanza. Sessantenne perseguita e minaccia, moglie e figlie intervengono, polizia e tribunale non potrà più vederle. Ripa ad un passo dal fine lavori entro la fine del mese la provinciale potrà riaprire a senso unico alternato. Ad un passo dalla sfida con il Bari di Carlo vogliamo un picco ribollente. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS giornale. Lo avete sentito dai nostri titoli. Sono stati respinti d'altare i ricorsi della società Livorno Porto 2000 dell'autorità portuale livornese che erano stati fatti nel 2013 e nel 2014 contro l'autorità della Spezia. Livorno aveva chiesto anche i danni per la perdita degli scali ma ora si troverà a dover pagare anche le spese di lite. Ce ne parla Laura Ivani. Due a zero per l'autorità portuale della Spezia sono stati respinti i ricorsi al TAR della Livorno Porto 2000 contro l'autorità Spezzina in merito alle soluzioni adottate per incrementare il traffico passeggeri. In un primo ricorso del 2013 la Porto Livorno 2000 aveva richiesto l'annullamento al TAR di una serie di atti dell'autorità portuale della Spezia che riguardavano l'utilizzo di Molo Garibaldi per usi croceristici. In quell'anno era stata inaugurata la banchina crociere sul Molo Garibaldi destinato così a un uso promiscuo per merci e passeggeri. Nel secondo ricorso del 2014 la stessa società aveva richiesto l'annullamento di tutti gli atti che riguardavano gli atti di permuta tra l'autorità portuale e la Marina Militare per consentire gli accosti delle navi passeggeri al Molo Varicella all'interno della base navale della Spezia. Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Lo stesso tribunale ha anche condannato la Porto Livorno 2000 al pagamento delle spese di lite. La società aveva chiesto il rimborso dei danni che riteneva di aver subito per la perdita degli scali. Ci viene dato atto di aver compiuto atti amministrativi assolutamente regolari e trasparenti ha commentato oggi con soddisfazione il presidente dell'autorità spezzina Lorenzo Forceri. Parliamo di cronaca. Questa mattina la Polizia di Stato ha notificato ad un cittadino castelnovese di 60 anni l'ordinanza disposta dal GIP del Tribunale Penale della Spezia che prevede il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex convivente. L'uomo non si era rassegnato alla fine del rapporto aveva continuato a vessare l'ex convivente utilizzando anche la figlia più piccola alla quale riferiva minacce da riportare alla madre. Questa grave situazione aveva generato nella signora uno stato ansioso e depressivo che ne aveva comportato addirittura il ricovero in ospedale. La misura cautelare applicata stamattina impedirà che l'uomo si avvicini ai luoghi frequentati dalla ex convivente che comunichi con la stessa in ogni modo direttamente o per o tramite le figlie. Parliamo di maltempo. Il nubifragio che si è abbattuto questa mattina sulla provincia pare non abbia provocato particolari danni se non disagia la circolazione dovuti ad allagamenti conseguenti alla gran parte dei casi ad intasamenti delle bocchette fognarie. In via 27 marzo alla Spezza davanti a Castello San Giorgio anche come documenta la nostra foto nonostante la pavimentazione sia stata appena rifatta questa era in queste condizioni critiche e questa foto è stata scattata alle 13 di oggi ma a questo punto ci chiediamo a chi tocca verificare che certi lavori siano eseguiti a regola d'arte. Andiamo avanti e parliamo ancora di cronaca sono stati sfondati i vetri dei finestrini e delle porte intercomunicanti interne di tre treni regionali lo denuncia una nota delle ferrovie dello Stato e gli episodi sono accaduti ieri a bordo di un regionale La Spezia Genova un altro Savona Sestri Levante e un altro ancora sempre Genova La Spezia il personale di bordo ha messo in sicurezza le parti danneggiate e ha chiuso ai viaggiatori le carrozze non praticabili per evidenti motivi di sicurezza per poter riparare i danni le carrozze sono state fermate nelle officine di Trenitalia di conseguenza ieri e oggi 10 treni regionali hanno circolato e stanno circolando con un minor numero di posti a disposizione le spese per la riparazione dei danni da atti vandalici ammontano per il 2015 a circa 800 mila euro a cui occorre aggiungere i gravi disagi ai viaggiatori anche per questi ultimi episodi è stata sporta denuncia contro ignoti e niente insomma possiamo proseguire termineranno lunedì i lavori sulla strada della Ripa entro fine mese la provinciale potrà riaprire a senso unico alternato ce ne parla Laura Ivani pare che questa sia davvero la volta buona dopo 5 mesi riapre la strada provinciale della Ripa il cronoprogramma dettato dalla ditta è stato rispettato accelerata sui lavori dopo quasi due mesi di polemiche e ritardi e così lunedì il cantiere per quel che riguarda le opere strutturali più importanti si potrà dire concluso per la riapertura della provinciale occorrerà però attendere ancora qualche giorno tempo utile ad effettuare il collaudo che certificherà che la strada sarà sicura almeno per i prossimi due anni anni in cui dovranno realizzarsi le opere per la riapertura a doppio senso stamani un tavolo in prefettura nel quale si sono confrontati tecnici e istituzioni provincia e regione anche se nessuno si azzarda a indicare il giorno preciso in cui le transenne saranno tolte troppe previsioni disattese così gli amministratori ci vanno con i piedi di piombo la strada riaperta a senso unico alternato sarà in un primo momento chiusa in caso di allerta meteo non appena saranno completati tutti i lavori quindi da febbraio il transito sarà proibito solo con forti piogge a vigilare ci saranno alcuni pluviometri in grado di rilevare un potenziale rischio soddisfazione espressa al termine della riunione dal presidente della provincia della spezia massimo federici e dall'assessore regionale alle infrastrutture giacomo giampedrone in corso d'opera da parte dei tecnici della regione tramite ire la progettazione per la messa in sicurezza definitiva progettazione che annunciato giampedrone sarà pronta alla fine del mese di marzo i tempi di realizzazione delle infrastrutture saranno lunghi si parla di almeno un paio d'anni per questo la regione ha assicurato la disponibilità economica per ulteriori interventi di consolidamento del versante nell'attesa della soluzione finale la ripa non precluderebbe secondo le intenzioni dell'ente regionale altre importanti opere della zona come la realizzazione della bretella santo stefano ceparana e lo svincolo autostradale a ceparana questa mattina presso alcune della spezia si è tenuto un incontro sulla situazione di otto melara tra l'assessore allo sviluppo economico alessandro pogli segretari di fiom mattia tivegna film massimo sensoli e wilm graziano leonardi le organizzazioni sindacali hanno manifestato la loro preoccupazione per lo spostamento di funzioni direzionali lontane dalla sede produttiva la mancata riorganizzazione della divisione militare e il tema dei carichi di lavoro le organizzazioni sindacali hanno così chiesto all'amministrazione di intraprendere ogni azione utile al raggiungimento delle finalità emerse nell'incontro riservandosi comunque di avviare qualsiasi forma di mobilitazione funzionale allo scopo cambiamo argomento saldi e commercio l'andamento le modalità in cui si approfitta di questo periodo lo abbiamo chiesto direttamente ai commercianti e questo sarà solo uno degli argomenti trattati all'interno della nuova puntata del salotto del signor Rossi ma vediamo una piccola inteprima nel servizio di Sara Cadenotti e Sergio Diofili i saldi sono l'occasione per fare anche un bilancio del commercio come sono partiti con con quali aspettative e che significato hanno oggi allora le aspettative sono molto importanti sia da parte del commerciante ma anche del cliente perché ha l'opportunità di comprare con dei degli sconti importanti dei capi importanti e quindi di rinnovarsi il guardaroba e quindi le aspettative sono buone una buona partenza diceva ma tra centri commerciali outlet e commercio online qual è l'avversario più temibile che voi riscontrate proprio nel vostro lavoro quotidiano beh tutte e due sono da sono molto importanti nel nel timore perché moltissima gente compra online e tantissimi vanno negli outlet ma io credo comunque che la qualità il si rimanga sempre nel negozio di 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 città di paese di di c'è un rapporto diverso tra il commerciante il cliente o il consiglio quindi io credo sempre che sia più importante andare nel negozio di fiducia oppure passeggiando per la città scegliere un negozio e fare gli acquisti lì avete visto i saldi in giro siete in giro per compere comunque avete a lavoro vi siete già fatti un'idea delle promozioni sono valide abbiamo fatto qualcosina sì ma niente di che avevamo già comprato quasi tutto come tipo di acquisto prefere privilegiate i negozi del centro centri commerciali altrett al commercio online ultimamente tanto online effettivamente non sui vestiti sui vestiti rimaniamo più sugli outlet ecco in generale tra outlet commercio online negozio tradizionale online per quale ragione si risparmia poi riesce a trovare di più online perdendo un po magari la prova alla ricerca no ma le taglie non ci sbagliano sono sono giuste lei invece di un'altra generazione assolutamente io voglio vedere misurare e le cose si devono anche toccare con mano per vedere online sarà però non trovo utile io non fa per me diciamo che quando non trovi qualcosa nel negozio tradizionale adesso vai subito su internet a vedere se lo trovi se magari per ipotesi c'è un prezzo anche migliore però ovviamente fare una passeggiata un po di shopping è sempre bello ma sempre piacere torniamo per un attimo alla cronaca teneva in bella mostra 16 reperti archeologici di cui non era specificata la provenienza per questo motivo un uomo residente a porto venere è stato denunciato dalla guardia di finanza al termine di un'articolata indagine veniamo il servizio un tesoro dal valore inestimabile nella casa estiva di un facoltoso cittadino tedesco a porto venere è quanto ha scoperto e sequestrato la guardia di finanza della spezia coordinata dal procuratore capo maurizio caporuscio all'interno dell'abitazione sono stati rinvenuti 16 reperti archeologici di valore inestimabile risalenti ad un'età compresa tra il primo secolo avanti cristo e il terzo secolo dopo cristo i finanzieri hanno trovato cornici capitelli colonne urne cinerarie un coperchio di sarcofago frammenti di lastra affittile frammenti di anfore lavezzi e residui di tornitura di pietra ollare la cui stima commerciale non è stato possibile effettuare per la particolarità dei pezzi non essendo stata fornita alcuna prova della legittima provenienza dei reperti per il cittadino tedesco si è configurata l'ipotesi prevista e punita dal codice dei beni culturali come impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo stato le fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro i beni individuati come di interesse archeologico i beni attualmente in custodia presso la caserma tullio santini della spezia saranno trasportati alla soprintendenza per essere successivamente oggetto di più approfondite ricerche e accertamenti specifici ritorniamo in centro alla spezia per un attimo ritorniamo alla giornata di ieri quando durante una manifestazione in piazza verdi si sono creati dei piccoli disordini e interviene in merito il comitato piazza verdi che in una nota scrive abbiamo preso questa iniziativa consapevoli dei rischi che questo avrebbe potuto comportare per la ordinata viabilità del centro città purtroppo siamo stati costretti ad agire in questo modo al fine di far emergere pubblicamente soprattutto concretamente il rischio in atto in piazza verdi per i pedoni data l'attuale conformazione della corsia degli autobus che è quella finale a prescindere da quello che succederà al centro della piazza la nota del comitato specifica in questo senso abbiamo raggiunto il nostro scopo e se avessimo avuto altre possibilità meno impattanti le avremmo realizzate non ripeteremo l'iniziativa proseguono ma se nulla verrà fatto se mai agiremo in altre sedi per tutelare la sicurezza dei cittadini spezzini a cominciare dagli studenti e dai commercianti consumatori che frequentano la piazza proseguiamo andiamo avanti quindi precari della provincia sono 27 in diversi settori è quanto rimarcano cgl cis le will in una nota definendo ancora incerte le sorti per questi lavoratori dell'ente dotati si ricontrato assolutamente precario in ogni caso tutti si legge in una nota i percorsi dovessero essere intrapresi al fine di dare continuità lavorativa a questo personale avranno un senso e saranno sostenibili soltanto in un'ottica di transitorietà che riguardi il superamento del precariato e miri alla stabilizzazione dei lavoratori si stima che in ogni classe italiana ci siano almeno due ragazzi dislessici molto di più il sommerso alla spezia attiva un'associazione che si occupa di sostenere studenti genitori e insegnanti da sabato prenderanno avvio anche alcuni incontri formativi per noi laura ivani e davide morina primi tre anni per l'associazione aiuto dsa alla spezia un'associazione che aiuta genitori ragazzi ma anche insegnanti qual è il vostro ambito di azione l'associazione aiuto dsa alla spezia si occupa di aiutare appunto famiglie e scuole nell'approccio della dislessia cioè dei disturbi specifici dell'apprendimento che comprendono dislessia discalculia disortografia e disgrafia in particolar modo aiutiamo le famiglie svolgiamo attività formative informative che riguardano appunto questi temi e supportiamo in collaborazione con tanti insegnanti tanti genitori e tanti clinici che fanno parte dell'associazione e in questo momento ci stiamo avviando per diventare onlus proprio il 16 gennaio parte un ciclo di incontri 11 incontri dedicati ad argomenti specifici sì ci sono tanti incontri il primo che partirà questo sabato alle 15 presso il circolo della cassa di risparmio di la spezia e parleremo nell'ambito di questo incontro dei prerequisiti della letto scrittura e saranno trattati dalla logopedista gulino poi ci si affronteranno tanti altri argomenti e soprattutto questi incontri sono aperti ai genitori e alle famiglie a tutte le famiglie e anche agli insegnanti come fanno i genitori e famiglie ma anche gli insegnanti a prendere contatto con voi e conoscervi un po meglio noi abbiamo la sede in via augo foscolo 40 presso il patronato della cisal è lì che svolgiamo l'attività di info point e basta contattarci e l'info point è offerto alle famiglie che soprattutto le famiglie che ci contattano e dove possono trovare indicazioni sia per convenzioni che abbiamo fatto con professionisti sia per avere un supporto psicologico la giunta cavarra approva il rinnovo del progetto di welfare sociale da il via al cantiere sociale per l'impiego di 20 persone in difficoltà nei lavori di pubblica utilità nei giorni scorsi infatti è stata approvata la delibera che prolunga tutto il primo semestre del 2016 il cosiddetto inserimento di lavoratori svantaggiati chi aderirà si metterà a disposizione dalle 15 alle 20 ore settimanali per svolgere attività per la manutenzione al decoro cittadino le borse di lavoro socializzanti verranno impiegate sia in centro che nelle periferie laddove vengono impiegati dipendenti comunali e quelli della cooperativa maris per garantire la polizia e la manutenzione su tutto il territorio comunale la giunta levantese ha deliberato l'aumento delle tariffe d'ingresso degli autobus turistici nel centro del paese mantenendo la distinzione tra pullman diretti alle strutture turistiche pullman non al servizio di passeggeri che alloggiano nel paese per ciò che riguarda l'ingresso la tariffa giornaliera generica è fissata in 50 euro mentre quella per i mezzi diretti alle strutture ricettive ubicate nel paese di 10 euro ulteriori informazioni il disciplinare relativo alla circolazione alla sosta degli autobus turistici nel centro cittadino sono disponibili sul sito del comune di levanto una nuova rivista arricchisce la cultura in città si chiama aeropago al laboratorio per una scienza teologica vediamo il servizio di italo lunghi per capire meglio di cosa si tratta presentata ieri sera nell'aula magna dell'istituto superiore di scienze religiose nicolo quinto la presenza di numerosissimi ospiti la nuova rivista di teologia nata alla spezia areopago la rivista pubblicata dalla casa editrice agora e diretta dal professor antonio postorino docente di teologia fondamentale antropologia teologica ed etica all'istituto nicolo quinto e docente di storia della filosofia e di metafisica allo studio teologico interdiocesano di camaiore dove studiano anche gli allievi del nostro seminario descovile a dirigere con lui la rivista don alessandro biancalani sacerdote della diocesi di massacarrara anche lui docente allo studio teologico di camaiore la presentazione della neonata rivista teologica spezzina alla presenza del vescovo diocesano monsignor luigi ernesto palletti del vescovo emerito monsignor bassano staffieri e del vicario generale monsignor enrico nutti peraltro rettore dello studio teologico interdiocesano di camaiore professor postorino di che cosa si tratta questa iniziativa che viene presentata oggi che cosa è l'idea prima è quella di una un lembo di chiesa territorialmente definito che riflette su se stessa e riflette sul proprio rapporto al mondo questa idea è stata non proprio facile da portare avanti perché si è partiti dall'idea di una rivista numerose circostanze di tipo proprio editoriale hanno consigliato piuttosto una collana di studi teologici in maniera tale che la frequenza può essere annuale come maggiore o come minore l'idea fondamentale è quello di un approccio teologico che non si limiti al momento assolutamente legittimo dell'auto referenzialità una scienza della fede ma che miri ad allargare la comunità credente quindi che si rivolga al mondo mostrando che il metodo teologico riesce a ottenere risultati circa i massimi problemi dell'esistenza che tutti condividono che il non credente potrebbe qualche volta come dire prendere atto che sono insospettati o inattesi possiamo fare un esempio due al massimo di argomenti dei primi numeri delle prime pubblicazioni il primo numero già uscito che presentiamo si è occupato proprio della teologia in quanto tale cioè diciamo è una di manifesto naturalmente da più punti di vista il mio articolo che è il primo è il vero manifesto della poi ci sono contributi di vario genere il secondo che è già in fase di elaborazione abbastanza avanzato sarà sull'Europa e quindi la tesi che verrà sostenuta in un complesso di saggi e che se c'è un'identità europea cosa che oggi è molto difficile capire è un'identità teologica questo dovrà essere visto in maniera evidentemente articolata e con la sua complessità anche i borghi di eccellenza entrano a far parte della campagna Liguria d'inverno lo ha confermato oggi l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino nel corso dell'incontro con i sindaci dei borghi annunciando lo stanziamento di 25 mila euro di fondi ministeriali per la riqualificazione infrastrutturale di cinque borghi e il rilancio promozionale di tutto il circuito anche Brugnato e Varese Ligure rientrano nel progetto e beneficeranno dei finanziamenti per interventi di infrastruttura per la riqualificazione turistica questa mattina il liceo artistico Cardarelli della Spezia ha aperto le proprie aule per trasformarsi in una scuola museo esponendo i lavori realizzati dagli studenti in un percorso del tutto particolare per noi Selene Ricco e Davide Morina siamo con i rappresentanti di istituto di questa scuola di questo liceo oggi diciamo che ti hai preso proprio in mano questo spazio per gestirlo per esporlo al pubblico come sta andando? Beh a quanto pare sta andando molto bene di gente comunque ragazzi delle medie sono venuti in parecchi e sinceramente non ce l'aspettavamo neanche così tanto questa gente insomma e vedo che comunque sta andando bene la mostra sta piacendo a tutti hanno fatto i complimenti anche ai professori quindi siamo contenti insomma Ecco è la prima volta che avviene diciamo una giornata aperta al pubblico come questa? Ed è la prima volta in questa scuola che facciamo questa iniziativa e eravamo speranzosi è successo è venuto fuori un bel lavoro e speriamo che possa anche continuare negli anni prossimi comunque Diverse le aree che è possibile visitare in mattinata come avete diciamo organizzato la gestione delle varie attività? Sì allora noi della classe quinta B in quanto a 22 rappresentanti di istituto in classe ci siamo diciamo occupati dell'organizzazione della divisione delle aule è stato utilizzato solo il piano terra e è stata divisa tra aule di pittura, di scultura, aule di grafica, musicale, architettura e multimediale fotografia Diciamo che in ogni classe in una di queste aule vi sono dei ragazzi che svolgono il ruolo di raccontare di esporre alle persone, ai visitatori quello che avviene in questo momento in queste aule e quello che si svolge e si fa durante l'anno scolastico quindi diciamo dare una sorta di impronta a quello che si fa in questa scuola e quello che si potrà fare una volta usciti da questa scuola Una giornata importante per questi ragazzi che hanno diciamo avuto la possibilità di mettere in mostra in qualche modo tutto quello che producono, tutto quello che lavorano, per il quale studiano e mettono in pratica durante l'anno Come sta andando? Questa giornata è una giornata dove la scuola apre completamente lo spazio crea uno spazio dove gli studenti diventano protagonisti dove in realtà si creano situazioni dove il loro lavoro diventa importante come oggetto anche di proposta, quindi imparano anche a esporsi e a esporre Io ritengo che questa è un'iniziativa che viene fatta per la prima volta in questi termini ma sta avendo anche una buona gestione, una buona capacità di proporsi al mondo interno ed esterno Parliamo ancora di scuola perché torna la notte bianca dei licei classici iniziativa per tutelare e rilanciare la cultura classica è stata sfantando pregiudizi sulle lingue che la caratterizzano come latino e greco L'evento tocca anche il liceo Costa di Piazza Verdi ma scopriamo qualche dettaglio in più nel servizio di Raffaele Maulella 15 gennaio, o meglio, nella notte tra il 15 e il 16 gennaio ci sarà la seconda edizione della notte dei licei classici quindi scuole aperte fino all'alba, perché? Per ribadire l'importanza del liceo classico per ribadire la sua valenza culturale a 360 gradi perché l'ultima scuola rimasta non specialistica è veramente in grado di formare a 360 gradi un allievo che voglia intraprendere qualunque percorso di studi ma anche lavorativo Qual è un punto importante del programma di questa notte? Un qualcosa di rinunciabile a cui invitare anche la persona? Trovo personalmente che qualcosa che sia veramente importante da vedere sia come il nostro liceo riesce a coniugare perfettamente la classicità e quindi la lettura e lo studio dei testi classici a quello che può essere lo sport, l'arte, quindi la musica oppure la danza Avremo la lettura di brani in lingua latina e ovviamente tradotti recitati dal nostro laboratorio teatrale con l'accompagnamento di musica scelta apposta suonata dal nostro corso musicale Tu perché hai scelto di fare degli studi classici? Personalmente sono sempre stato attratto dagli studi classici mi sono sempre interessato allo studio della storia, dell'italiano e di quello che c'era prima del momento che sto vivendo io adesso Con lo studio del liceo classico, attraverso il greco e il latino oltre appunto ad appassionarmi sempre di più e a coltivare studi che avevo già affrontato in passato ho anche appreso un metodo di studio nuovo che mi ha aperto la mente e mi ha aiutato non solo per gli studi classici ma anche per gli studi matematici letture di Omero in greco, letture in latino, filosofia, storia con Arrigo Pettacco e Marco Ferrari ma è una cosa riservata oppure è aperta a tutti? Ovviamente è aperta a tutti e per questo noi vogliamo sottolineare quanto la nostra scuola sia aperta a tutti soprattutto in questa notte nella quale dalle 6 del pomeriggio a mezzanotte terrà le proprie porte aperte a tutta la cittadinanza alle 6 inizierà in tutta la nazione sono più di 250 i licei classici che aderiscono in tutta la nazione inizierà con una presentazione sull'importanza come ha sottolineato prima mia professoressa del liceo classico nella nostra scuola e nella nostra nazione e si concluderà a mezzanotte con una lettura come appena detto lei dell'Iliade fatta da una nostra professoressa Quindi in conclusione si può dire che la cultura umanistica non è morta ma anzi consente di comprendere tutto il resto anche quella scientifica? Assolutamente sì e lo dimostra il nostro liceo che infatti si rinnova ogni anno mostrandosi sempre più attuale ad esempio coltivando proprio non solo gli studi scientifici ma quelli musicali e anche ovviamente le lingue straniere domani notte venerdì 15 gennaio l'osservatorio astronomico IRAS della Spezia sarà aperto al pubblico per l'osservazione pubblica della cometa Catalina la cometa Catalina nelle prime ore della notte sarà molto bassa sull'orizzonte l'osservazione non sarà agevole potrebbero esservi ostruzioni naturali come alberi e colline attorno alle 23.30 l'altezza della cometa sarà circa 20 gradi sopra l'orizzonte e allora dovrebbe essere avvistata anche con un semplice binocolo vi saranno molti telescopi a disposizione per le osservazioni oltre alla cometa comunque vi saranno molti oggetti visibili e spettacolari del cielo invernale nebulose a massi galassie come sempre durante le osservazioni pubbliche chi vorrà potrà iscriversi all'istituto Spezzino Ricerche Astronomiche in modo da poter partecipare a tutte le attività di astronomia dell'anno in corso al corso Astronomia di base il corso Conoscere il cielo al planetario della Spezia entrambi gratuiti per gli iscritti all'IRAS parliamo di sport in Serie C Silver Ligure il Sarzana Basket si mantiene al comando insieme a Tarros e Follo vincendo nettamente a Vado contro il Loano Biancoverdi ora attesi sabato prossimo al Palarie da impegno di certo più duro che lo oppone all'Aurora Chiavari del tutto parliamo nel servizio di Andrea Catalani con la guardia sarzanese Roberto Bambini vediamo il servizio Roberto Bambini senti questa vittoria tutto sommato netta a Vado secondo qualcuno diciamo era un po' troppo scontata e pertanto è stata presa poco seriamente forse la gara dal Sarzana che facciamo? smentiamo, confermiamo o rimaniamo a metà? no guarda sicuramente era una partita abbastanza facile per noi siamo partiti bene forse troppo bene tant'è che ci siamo rilassati ci siamo tenuti la squadra avversaria sino all'ultimo quarto vicino quindi potevamo fare meglio però tutto sommato come prima gara dal rientro delle feste possiamo considerarlo un buon match dunque adesso è in arrivo al Palarighe avversario di ben altro calibro vero? quindi allora magari avrete carburato dopo la pausa a quel punto lì almeno si spera sì certo arriva il Chiavari con cui abbiamo perso la finale l'anno scorso sicuramente una squadra che a noi ci mette sempre in difficoltà però ci facciamo trovare pronti e poi ne riparliamo dopo la partita rientrati dal ritiro i ragazzi di mister Di Carlo si preparano per la sfida contro il Bari oggi la conferenza stampa del mister vediamone un estratto sicuramente la sosta ci ha consentito soprattutto i giorni di ritiro e in questa settimana qua di lavorare sui dettagli come si diceva prima quindi anche l'inserimento dei giocatori nuovi e la conoscenza ha fatto sì negli allenamenti di far sì che tutti parlo di squadra la pensassero un po' allo stesso modo e di avere un solo corpo per cercare di andare poi a fare le prestazioni in campo Decoil è tornato l'ho visto abbastanza motivato bene fisicamente Pulsetti gli manca solo la partita perché comunque a livello fisico sta bene dispiace un po' per Antonio Piccolo perché comunque è un giocatore che aveva giocato bene sempre fino con Lanciano però quando cambi diciamo modo di lavorare c'è sempre l'incognita speriamo di averci lo prima possibile però comunque chi andrà in campo domani vedremo se schierare sia Decoil che Pulsetti tutti e due insieme però se dovessero giocare è chiaro tutti e due sono convinto che farebbero bene c'è tende un avversario forte c'è tende un avversario che comunque è stato costruito per andare per almeno giocare con le sette otto squadre per andare in Serie A cambia da allenatore e quindi ci sono anche le incognite diciamo per noi penso che penso che il Bari arriverà qui e vorrà vincere la partita questo è sicuro perché le qualità della squadra sono quelle ma troverà di fronte uno spezia guerrito uno spezia determinato io sono molto fiducioso per domani molto fiducioso della squadra di quello come ha lavorato di quello che come ha voglia di voler andare in campo per poter vincere la partita io penso che sia molto più importante come si ci si va in campo ok come l'atteggiamento della squadra come deve essere e per me deve essere sempre di di intensità di ritmo alto di aggressione di gioco veloce e soprattutto di spingere il nostro pubblico che ci dovrà spingere forte e dovrà farci sentire il proprio calore dal primo al 95 come ha sempre fatto ma dipende anche da noi e questo è un binomio che voglio che ogni partita sia sempre più forte in chiusura veniamo alle previsioni del tempo per il cielo spezzino domani arrivano buone notizie infatti sia sulla costa sia al mattino che al pomeriggio il cielo sarà sereno l'umidità sarà su valori medio bassi i venti soffieranno da nord nord ovest tra moderati e forti anche rafficati il mare sarà molto mosso in calo fino a mosso le temperature oscilleranno tra una minima di 5 gradi e una massima di 14 gradi per questa edizione del TLS giornale era davvero l'ultima notizia grazie per averci seguito e buona serata arrivederci